Ben ritrovati ospite di Speciale Telesviva verso le elezioni Franco Passore, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista Emiliano Sindaco di Puglia e consigliere regionale uscente del gruppo del Partito Socialista. Bentornato Passore. Grazie a voi, grazie a te. Allora, io voglio partire proprio dalla scelta che lei e il suo partito avete fatto di candidarvi nella lista Emiliano, ripetendo un po' l'operazione di cinque anni fa, quando i socialisti furono candidati, fecero un accordo con SEL, che in qualche modo era la lista del Presidente, visto che il candidato era Nicchi Vendola, e che portò poi all'elezione di ben quattro consiglieri, espressione del Partito Socialista. Perché questa volta la lista Emiliano Sindaco di Puglia? Perché sempre in base alla legge elettorale vigente, che praticamente lo sbaramento, nonostante l'abbassamento del numero dei consiglieri, lo sbaramento all'interno della coalizione non è diminuito, anzi… L'8%? No, l'8% fuori dalla coalizione, dentro la coalizione il 4%, con la riduzione dei consiglieri praticamente la sticella si alza al 5%, noi nel Partito Socialista, pur avendo una grande rappresentanza in terra di Puglia del Partito Socialista, non potevamo presentarci da solo come simbolo del Partito Socialista. Abbiamo fatto un tentativo con tutte le anime socialiste, con tutta la diaspora socialista che ancora esistono in Italia e in Puglia, se lo sbaramento dell'altro 3% avremmo fatto una lista riformista e quant'altro. Vengo alla sua domanda perché con Emiliano? Perché la lista, tra l'altro ci ha visto anche protagonisti nelle primarie in appoggio Emiliano a differenza di Stefano, quindi già il sol che era già tracciato. Perché con la lista Emiliano? Perché la lista di Sinistra Ecologia e Libertà era in libera uscita e quindi noi non potevamo stare lì ad aspettare. Però un tentativo di fare una lista di Sinistra c'è stata, voi avete anche trattato la possibilità di confluire nella lista di Sinistra, sempre in appoggio ad Emiliano. Sì, noi abbiamo iniziato questo tipo di percorso molto prima delle primarie, perché voglio dire abbiamo fatto delle riunioni con i capigruppo, con i responsabili regionali di Sella. Quando ci hanno prospettato il progetto che Sinistra Ecologia e Libertà non esisteva più, che Puglia per Vendola non esisteva più, ma che questi due anime si dovevano riunire insieme a un'anima socialista, praticamente facendo un po' di conticini, non abbiamo ritenuto opportuno di fare questo tipo di operazione. Ma io parlo prima delle primarie, per cui alle primarie ci siamo schierati con Emiliano e quindi va da sé che adesso stiamo nella lista con Emiliano, sindaco della Puglia. Questa è la motivazione prima di carattere tecnico e poi di carattere politico. Però resta questa vocazione al frazionamento dei socialisti, che in Puglia lei ricordava hanno ancora una buona rappresentanza nella provincia di Barletta-Andriatrani in modo particolare. Perché io ricordavo che foste eletti in quattro, cinque anni fa, poi due avete fatto il gruppo del Partito Socialista, altri due invece... No, adesso siamo... due se ne andarono nel segno di cui uno già se ne uscì. Sì, se ne uscì. Però Frentrone è rientrato con noi. Adesso, anche in questa fase, assistiamo a un nuovo frazionamento, nel senso che il Partito Socialista, ufficiale, sta nella lista Emiliano, sindaco di Puglia. C'è una parte di Socialisti che però è restato nella lista di sinistra, quella insieme a Michi Vendola, Stefano, eccetera. E poi c'è ancora il nuovo PSI, o ciò che ne resta, che resta nel centrodestra e che sembra sia... debba allearsi con Forza Italia qualora persista la spaccatura tra Forza Italia e il candidato alla presidenza Schittulli. Non vi riuscite a riunire? No, la diaspora socialista esiste ancora perché esiste ancora questa storia contro i comunisti, contro... e chi è prettamente di sinistra. Tutti quanti ci chiamiamo riformisti, tutti ci chiamiamo partiti di sinistra. Per questioni o percorsi di tipo personale o di rivalsa, purtroppo il nuovo PSI è da tanti anni un movimento che ne si stende, rappresentato soltanto da Caldoro in Campania e da Barani in Toscana, poi in realtà non ha grandi... è una scelta che da tanti anni loro hanno fatto. In Puglio invece... Vabbè, c'è Stefania Craxi, diciamo che... Sono percorsi che hanno già fatto dal 92, che loro stanno là con Forza Italia, poi la decisione, voglio dire, la diaspora si è già consumata a quell'epoca. Nella fattispecie di quei pochi socialisti che sono... noi c'è un rientro di Onofrio Introna nell'ambito dell'area socialista, tant'è che Onofrio, il Presidente del Consiglio, si candida alla lista di Emiliano Sindico di Puglia, quindi da due siamo diventati tre. Potevamo fare questa decisione, è avvenuto nell'ultimo Consiglio regionale, potevamo fare il gruppo socialista a tutti gli effetti, perché bastavano tre consiglieri, ma non voglio dire, abbiamo lasciato... Siamo alla fine del percorso. Nella BAT alcuni socialisti si erano già posizionati nel SEL, tant'è che è tipo un personaggio di Margherita che fa dei percorsi personali, per cui ognuno poi si assume la responsabilità dei percorsi personali, tra l'altro ha lasciato il partito da quattro anni, quindi standosene a Margherita nel SEL. E nel rientro del rientro di Signorile, quell'operazione che è stata? Si sono praticamente, era sempre un'operazione di potere che noi non abbiamo condivisa e praticamente ognuno di questi personaggi, in cerca d'autore io dico, perché la vera unità si fa il giorno dopo l'elezione, se vogliamo veramente che l'idea socialista rimane o l'idea riformista rimane, metteranno qualche candidato nelle varie liste di Emiliano. Però l'accordo di tutti i socialisti è nella lista di Emiliano, domani noi ci accingeremo a definire questo accordo, ecco perché a livello regionale non si è ancora concluso l'accordo del partito socialista italiano, segretario nazionale e il vice ministro Nencini, segretario regionale Mezzina, con Emiliano. Stiamo chiudendo, perché ci sono alcuni problemi nelle varie federazioni, per cui non abbiamo timore. non è che c'è un colpo a sorpresa, che si arrivi a una rottura. Assolutamente no, anche perché almeno io e altri consiglieri che hanno la federazione uniti e compatte, siamo già partiti per la campagna elettorale, per cui oggi, grazie a lei, posso annunciare la mia candidatura in questa lista di Emiliano, sindaco di Puglia. Io gliela faccio ogni volta che viene, io le faccio questa domanda, lei ogni volta mi risponde, ma io gliela farò anche la prossima lontana. Ha senso mantenere in piedi il partito socialista? Sicuramente sì, perché la storia sta cambiando, la storia sta cambiando, tutti quanti si sono appropriati dalla parola riformista, tutti quanti sono riformisti, tutti quanti fanno capo al riformismo, lo stesso Renzi nella sua dicitura innovazione, rottamazione, parla sempre di riformismo, ma in realtà la storia non si dimentica mai. Due riformisti ci sono stati, quello cattolico e quello socialista, altri sono tutti chiacchiere perché la storia ha sconfitto determinati percorsi a sinistra con i comunisti e a destra con l'estrema destra. Allora, il partito socialista da Monti viene considerato scandaloso, lei ha scelto come slogan scandalosamente franco. Perché? Scandalosamente per la franchezza, io scandalosamente franco perché io dico pane pane vino a vino e sono un anomalo, un'anomalia nella politica perché io non ho padroni, non ho mai fatto il servo a nessuno o il servo sciocco a nessuno. Scandalosamente franco perché io in tutte le mie manifestazioni istituzionali, non sono istituzionali, in ogni luogo che mi ha visto protagonista o con partecipare, sono sempre stato abbastanza franco, anche nei rapporti con i cittadini, tanto è molti cittadini proprio per questa mia franchezza mi avversano perché non vogliono essere detti la verità, ma come sta succedendo anche in questa campagna elettorale, mi piace essere presso in giro. Io non sono uno di quelli, io sono uno di quelli che dico pane pane, vino a vino, senza timore di niente, affrontando le cose così come stanno e raccontando, narrando ai cittadini le cose come devono venire. Faccio un esempio che vale per tutti. Il passaggio di livello o l'urbanizzazione della 167 a Barletta, quando devono essere realizzati? Tutti quanti se la stanno vendendo, adesso abbiamo fatto, fra un mese, due mesi abbiamo fatto tutto, invece la differenza che conosco, il meccanismo amministrativo, dico ai cittadini, i cari cittadini dovete ancora soffrire almeno per due anni, due anni e mezzo. E addirittura? Sì, sì, sì. Siccome sarebbe stato… Ci rivedremo fra due anni. Siccome diciamo, sembra che la gara sia stata assegnata. La gara è stata assegnata, devono sottoscrivere il contratto, devono mettere in pianto tutta una serie di cantiere, quindi la canterizzazione, quindi la definizione delle strade, delle luci, dei marciapiedi, eccetera, il completamento di quell'urbanizzazione. C'è un problema ancora di fondo, quella della condotta della Fogna Bianca, che non sappiamo come l'hanno risolta, perché non hanno risolto il collegamento tra la 167 e Viandria. Allora io che sono onesto con me stesso, perché voglio… Ma è vero che quel problema non può essere risolto fino a quando non verrà fatto il sottovia? No, è un altro problema. Il sottovia di Viandria è quella condotta che deve unire, quindi attraversare la Bari Nord, tra la 167 e la condotta che va inviando. Perché adesso è attaccata provvisoriamente su quella di Via Barberini e su quell'altra di Via Madonna della Croce. Per cui il tubo è di 10, l'afflusso… Perché quando si parlava degli allagamenti, soprattutto sul prolungamento di Via Barberini, le risposte che si sentono e che sono determinati proprio da questo imbuto e che sino a quando non ci sarà il collegamento con la condotta di Viandria, che potrà essere fatta solo contestualmente al famigerato sottovia il problema. Ma sono due lavori separati e distinti. L'urbanizzazione della 167 è una cosa, la condotta è un'altra cosa. Per cui il problema della Venezia, che abbiamo visto il giorno di Pasqua, se non si risolve quello e non si risolvono l'illievamento delle strade, quindi sotto le condotture che portano la fogna a bianca, non è che le cose si risolvono. Allora, è inutile dire ai cittadini fra un mese, due mesi, stanno in campagna elettorale, il cittadino che vive ancora di speranza, giustamente vive di speranza, perché quando è tolta la speranza un cittadino o uno di noi non vale più la pena di campare, quando togli queste cose, che cosa… invece io sono, proprio per la mia franchezza, a volte mi faccio molti nemici, va bene, dico le cose come stanno. Ho fatto l'esempio della cartina, come ho fatto anche l'esempio dell'ultimo atto che io ho condiviso in pieno dell'ex distilleria, ho condiviso in pieno, perché questa è una cosa che io ho sollecitato sin dal momento dell'insediamento al sindaco… Parla dello sgombero? Parla dello sgombero, che finalmente si è ripristinata la legalità, ma è subentrata un'altra illegalità, quella di aver ospitato le famiglie nell'ex angioletto che adesso… Vabbè, si parla di 15, massimo 30 giorni… Lei non ci crede? Io me lo auguro, e mi auguro soprattutto che quella struttura rimanga aperta per tutti, per la sua destinazione, per la disabilità. Cioè già che sia aperto per l'ospitalità dei… rimanga aperto per ospitare i disabili. Ma lei la questione di angioletto la conosce? Eh beh, diciamo… Perché non si apre l'angioletto? Perché c'è una gara che non viene assegnata? Lì, innanzitutto ci sono un po' questioni di standard che mancano. Per ospitare, per dare… c'è bisogno di qualche standard, perché quando si è fatto il progetto all'epoca, la destinazione non era per questa destinazione… Per la riabilitazione. Per la riabilitazione. Per cui all'interno ci devono stare degli standard. Primo problema. Però si può ovviare cambiando un pochettino le cose. Il secondo problema è l'affidamento. Eh? L'affidamento deve essere una gara pubblica con persone… Ma non è stata già fatta? Non lo so se è stata fatta. Lei era amministratore però. Ero amministratore del comune di Barletta. All'epoca fu fatta, non fu fatta all'epoca? Fu iniziato il procedimento ma non si è mai concluso. Ho capito. No, perché diciamo, quello è un altro dei misteri gloriosi. Noi abbiamo fatto… Ma ti sto dicendo, io purtroppo che dico la verità, così questa storia delle case popolari di 24 alloggi. Ci vogliono due anni per la costruzione dei 24 alloggi. Ci sono 24 famiglie che devono essere attinte da una graduatoria ufficiale. Queste graduatorie ufficiali sono datate perché il comune di Barletta sono 10 anni che non fa un avviso pubblico. Per cui le aspettative ne saranno 1.500 per avere 24 posti. Allora non si può dire che abbiamo risolto il problema delle case popolari. Non so se ne è. È l'inizio, 24, anche sulla questione dell'ex distilleria. Lì c'è da stilare una graduatoria degli aventi diritti… Credo che quella ci sia già. C'è anche, ma le graduatorie se non le aggiorni decadono. Ecco la franchezza. Scandalosamente franco. Io scallo la città di Barletta. È la mia storia, ma lo insegno. Io non ho paura di nessuno. Non ho paura di affrontare il disoccupato, quello che dorme in macchina dicendo che tu oggi il comune non ti può dare niente di soldi. Non ti può dare niente neanche di servizi se non la mensa o eventuale ricovero a dormire. Quando io dico questo non do più… La gente pensa che non gli dio speranza. Non è così. Sono meccanismi che purtroppo… Scusa se mi appassiono su questo. Lei sa benissimo quanto ci tengo a questi temi che sono… voglio dire, sono i miei temi. Perché la carità, mettevo sul posto, la carità, l'aiuto al prossimo non si manifesta. Si fa e basta in silenzio. Tant'è che ho una famiglia, da me per primo, che lavoriamo nel mondo delle volontariate. Nessuno sa che noi lavoriamo nel mondo delle volontariate. È dove ricopriamo anche cariche molto forti. La solidarietà non si manifesta. Si deve fare punto e basta. Allora, passore, veniamo però al Consiglio regionale. Prima un fatto di carattere politico. Ricordavamo come lei è stato eletto, fu eletto nella lista di SEL. Però abbastanza presto, ha preso le distanze, diciamo, uscendo e riformando il gruppo. Dopo sei mesi. Con un atteggiamento critico nei confronti dello stesso Presidente Vento. Seguendo la campagna elettorale… La campagna elettorale di Emiliano è stata e tuttora caratterizzata da grandi aperture a un centro che tra poco fa il giro e supera la destra e arriva dall'altra parte. Invece continue critiche alla sinistra della coalizione, forti critiche all'amministrazione Vento, all'altra parte che ci sono stati anche scontri tra l'attuale Presidente e il candidato alla Presidenza Emiliano e una gran voglia di discontinuità. Lei concorda a questa strategia? Impari su alcuni temi sicuramente sì. Specialmente nella sanità e nell'ambiente. Per il resto l'aggiuntamento… Lei sta in queste due commissioni? Io sto nella commissione Sanità e Ambiente. Quindi sta in queste due commissioni. Basta pensare che nella sanità si sono avvicendati quattro assessori alla sanità, già questo dato ti fa capire che non c'è stata una chiarezza di intendimenti e ha prevalso la burocrazia e non la politica. Ne faccio un esempio. Sulla questione dell'ambiente non si è chiuso il ciclo dei rifiuti in Puglia, che era un tema fondamentale di vendola, perché non è che stiamo parlando di cinque anni, stiamo parlando di dieci anni. Questi sono secondo me i due punti dove fortemente fa anche bene Emiliano a dire discontinuità. Fa bene, perché in quei due punti la sanità è stata un po' per colpa del governo nazionale, un po' per la crisi, ma anche per un colpo. Per colpa anche, voglio dire, di chi ha governato cinque anni la sanità in Puglia. Il dato è quattro assessori. Non è possibile portare avanti un'azienda con quattro assessori che si sono succeduti l'uno all'altro di distanza di un anno e qualche cosa, per dirla tutta. Invece l'amministrazione Venese è contraddistinta sul piano del turismo, sul piano dell'agricoltura. Il brand Puglia è andato dappertutto, sul piano della cultura. Sulle politiche giovanili. Ma non solo, sulle politiche giovanili, ma non solo. Ma noi siamo stati la Puglia che che ne voglia dire il cittadino comune con il mal di pancia. Noi siamo una regione virtuosa. Anche da un punto di vista dei privilegi. Noi dal 2012, cioè dal primo gennaio 2013, Vitalizio, TFR, noi l'abbiamo abolito tutti. Tutti quei privilegi che hanno portato l'antipolitica giustamente a rivendicare l'obrobiosità di questi soldi che si andavano sporperando alla di giù. Noi abbiamo avuto il coraggio di fare. Ecco, chiedo scusa, passo, però su questo, perché io ne ho parlato nel pezzo del Tg del venerdì perché circolano, diciamo, seguo la polemica su Fe, è stata pubblicata. Cioè, ci sono le liquidazioni per lei e gli altri consiglieri di prima consigliatura, quasi 70 mila euro. 69 mila euro. 69, 150 riporta la... sino ad arrivare a Nino Mammo che ha fatto quattro, parlo di quelli del nostro hotel della provincia di Barletta Andriatrani, che sono oltre 450, più di 450 mila euro. E allora, che cos'è che avete abolito? Abbiamo abolito che dal 2013 in poi non ci stanno più questi numeri qua. Cioè, dal 2013 noi non abbiamo... ne faccio un esempio. Se stava ancora in vigone quella legge, quindi non avevamo abolito il vitalizio, noi dovevamo avere come liquidazione 110 mila euro. Noi si è interrotto questo 10 mila, 60 mila euro perché noi dal 2012 l'abbiamo abolito. Per cui i futuri consiglieri regionali, non solo i futuri, ma anche noi, ma anche noi, ci siamo, voglio dire, dimezzati. Quindi bisogna dar valore a questa capacità e voglia e forza e coraggio che noi abbiamo avuto nell'abolire tutti i privilegi. I diritti acquisiti sono diventati i diritti acquisiti. Cioè, chi ha raggiunto la pensione a 60 anni o chi ha fatto quattro legislatura? Non è che lo dico io, lo dice la consulta che il diritto acquisito, salvo poi dire contrario alla legge a fornire, perché poi non capiamo bene. Per noi c'è il diritto acquisito, noi privilegiati. E per i poveri operai che il diritto acquisito della pensione è andato a... per la legge a fornire è andato a farsi bene bene. Per cui voglio dire, bisogna dire le cose. Ecco, questo argomento è scandalosamente, se io glielo dico a qualcuno, non accetta questo tipo di legge, non accetta il fatto che noi ci siamo privati di tutti i privilegi e nessuno ne parla, parla soltanto di quelli acquisiti. Senta, pastore, io però voglio soffermarmi adesso, sia sulla sanità che sull'ambiente, proprio perché lei ha fatto parte di, fa parte tuttora di entrambe le commissioni. Però siccome incombe la pubblicità, io direi di fermarci un minuto e poi torniamo in studio e approfondiamo un attimo questi due argomenti. Lo facciamo tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista a Franco Pastore, che è candidato al Consiglio regionale nel collegio della provincia di Barletta, Andrea Trani, nella lista Emiliano, sindaco di Puglia. Allora, pastore, prima dell'interruzione pubblicitaria avevamo detto che volevo approfondire le questioni legate ai problemi della sanità e dell'ambiente, che sono due delle tre commissioni di cui lei fa parte. L'altra, la settima commissione, è quella degli affari istituzionali. Allora, che cos'è che non ha funzionato nella sanità? Perché diciamo questa è effettivamente la principale nota dolente dell'amministrazione di Nichi Vendoro. Nel senso che il piano di riordino è restato con tutte le perplessità iniziali. I ticket stanno e sono pesanti. Le liste di attesa stavano e sono aumentate. Il nostro territorio è stato penalizzato sui posti letto. Tutti dicono che i posti letto sono relativi, però poi alla fine, diciamo, le contribuzioni, i finanziamenti avvengono in base ai posti letto. Lei che cos'è stata a fare in questa commissione? Ne do un dato, faccio una premessa. Io, come lei ha ricordato, sono stato partecipe a queste commissioni e tre commissioni. La mia partecipazione a queste commissioni, dati rilevati dal sito regionale, è la mia presenza del 97,5%, cioè su 123 commissioni ho partecipato a 120 commissioni. Questa è come convocazione di consiglio regionale. Terza commissione, assistenza sanitaria e servizi sociali, su 132 convocazioni, ho partecipato a 130 commissioni, quindi il 98,4% della mia presenza. Nella quinta commissione, quella dell'ecologia e l'urbanistica, su 231 ho partecipato al 229, il 99,1%, a quella istituzionale del 100%. Ho fatto questa premessa per dire che è che non sono andato in consiglio regionale, dopo, all'indomani dell'elezione, a scaldare la sedia o addirittura, come molti miei colleghi del territorio, firmavano e se ne andavano. Sono andato là, l'ho preso come un lavoro, come sempre, mi ha sempre condistinto nella mia vita, lavorando. Cinque anni, faticosamente, le presenze ne danno contezza. All'interno di questa presenza, e quindi arriva la domanda che mi hai fatto, che cosa non ha funzionato nella sanità? Non ha funzionato la governance. Quando le ricordavo che quattro assessori sono andati a cambiare, dopo un anno, non hanno dato una direttiva, quella dettata durante la campagna elettorale del 2010, da vendola che aveva sconfitto la linea, il piano di riordino di fitto, eccetera, eccetera. Ci siamo visti, come lei ha ricordato, le liste di attisa ancora lunghe. Il posto di letto ha dovuto, soprattutto, a una crisi che è poi imperante venuta nel 2011 nell'Italia, per cui abbiamo subito anche dei tagli trasportati a livello regionale, che non ci ha permesso di avere una strada da perseguire. Ogni assessore che succedeva la vedeva in una certa maniera. E noi, in commissione, a fare leggini, a studiare, a rimandare, a fare... Tant'è vero che l'esempio lampante della incapacità di comunicazione tra la governance Ares, la governance assessore e la governance locale, ne faccio l'esempio emblematico, dove mi sono buttato proprio per il senso di passione che ho nei confronti dei timi, la questione della riabilitazione cardiologica a Barletto. Cioè, il direttore generale, che adesso fa il direttore a Lecce, scrive una cosa sulla delibera, la 1145, l'assessore che viene a Barletto a visitare quell'eccellenza, ne dice un'altra cosa, adesso viene il nuovo direttore, ripristiniamo nuovamente. Questo chiaramente comporta disagio anche a noi che siamo dei semplici lettori o esecutori, perché la materia legislativa è molto particolare, basta spostare una virgola o basta spostare una parola, interpretare un'altra maniera, questo non è andato nella sanità. Il raccordo tra la tecnica e la politica, la sanità, tutti i problemi si risolvono con la politica. Chi è sul territorio, chi ha contatto dei problemi sa che una lista d'attesa va via 8 mesi, 4 mesi. Se le faccio ancora un'altra parola, quando è venuto Vendo l'assessore a inaugurare l'elisoccorso in un altro reparto, io passeggiando con i corridoi mi fermai con Vendo dicendo ecco dove sta la sanità, la sanità vera, perché quando stamattina lei mi è stato testimone, mi diceva una telefonata che non c'è un posto letto in chirurgia da 8 mesi, da 8 mesi non c'è un posto in chirurgia, ma di che cosa stiamo parlando? La sanità è questa, poi c'è la sanità di eccellenza, la sanità dove noi, grazie a Dio in Puglia, abbiamo anche delle eccellenze, però la sanità è questa, quella la carne viva, cioè quella gente che sta sul campo, nelle corsie, che va al pronto soccorso e immediatamente una risonanza viene fatta, un'attacca viene fatta, il rapporto tra il medico di base, io devo dire l'unico che ha avuto insieme all'Argentino una visione strategica su questa cosa, è stata inizialmente l'Argentino, poi ha lasciato perché sta ricoprendo un altro, un altro incarico di tipo ruolo, il Penta Sulla, l'attuale assessore, aveva una, perché lui viveva accanto all'esigenza, non bisogna essere un tecnico per capire la sanità, la tecnica fa parte di un altro comparto, bisogna capire la gente che qui stava trovando, quando io ho il mal di testa devo sapere che il dottore non mi deve andare a far fare l'attacca, mi deve dare eventualmente l'aspirina per farmi passare il testo. Se noi abbiamo dei dottori che gli fanno fare subito l'attacca, è chiaro che poi alla fine si intasa il rapporto utenza-macchinario, è normale, è una cosa fisiologica, per cui la sanità ha bucato sul non rapporto tra la politica del territorio e la politica della governance. Per ciò che riguarda invece l'ambiente, lei ritiene siano stati fatti per i passi avanti, perché delle defaianze ci sono, dai depuratori, giusto per restare al nostro territorio, quello della provincia di Bardetta-Andriatran, dai depuratori insufficienti, alcuni dei quali sotto sequestro alle vicende diciamo legate all'intera bonifica del Ciappetta-Camaggio, alle iniziative sul fiume Ofanto. Allora noi insieme a un altro collega da ragione, in domani del nostro intervento, siamo occupati per diversi mesi fino alla fuoriuscita dall'assessore Amati del depuratore di Barretta, non solo quello di Barretta ma anche quello di Andria, non solo quello di Andria ma altri depuratori, nella nostra banda. La risultanza di questo lavoro di cinque anni è che come stava così sono rimasti. Perché? Perché intorno a questi meccanismi ruotano tante e tante società, dall'acquedotto pugliese, all'ARIF, alla provincia, alla regione e voglia fare conferenza di servizio in continuazione. I verbali si sono arrivati al problema della semplificazione della burocrazia. L'errore che ha commesso in questo leggetto, in quel settore è di non aver fatto una legge ben chiara sia sui depuratori e sia sulla raccolta differenziata. Perché abbiamo costituiti altri centri di potere, tipo noi eravamo per una agenzia unica. Ci deve essere uno che deve monitorare tutta la Puglia, perché la BAT non deve essere diversa da Brindisi o l'immondizia della BAT esalta di andare a Brindisi o a Bari o viceversa. Questa proposta fatta da noi, e ci sono i resoconti stereografici della Commissione, non è stata mai accettata. Il motivo lo sappiamo tutti qual è. Per cui abbiamo trovato anche molta difficoltà a far emergere quelle idee riformiste che noi da sempre abbiamo sempre riportato. Purtroppo il tentativo, quello della mia ricandidatura, potevo stare tranquillamente a casa io, è di non abbandonare ciò che ho fatto, che alcuni noi abbiamo fatto per riprendere e completare. Lei quanto ha pagato lo scotto di prima legislatura? Molto, molto, molto. Come dicono gli anziani, il primo gire a conoscere? Sì, il primo gire a conoscere. Io sono stato quello che mi sono fatto conoscere, ho studiato, l'ho preso come un lavoro. E questa storia del giovane, del rinnovamento, non paga. Perché se non conosci i miandri delle norme, dei codici, dei codicelli, tu non vai da nessuna parte. Io ricordo i primi due anni, quando entravi in una commissione consigliare o in consiglio, consiglio, commissione regionale o consiglio regionale, parlavano, sparavano le leggi, la legge 4, la 24, la 6. Tu fino a quando ti sparavano queste, la norma dice dell'articolo 4, te la sparavano e tu lì devi stare a puntarti per poi andare in uno studio la sera stessa per non dimenticare e vedere ma che cosa significava la legge 4, che cosa dice la legge 4, a proposito di quel tema, sulla legge 24. E tutto questo studio mi ha permesso uno sbandamento di due anni che io, devo dire anche la verità, ho anche interrotto quel rapporto con il cittadino dalla mattina, perché dovevo studiarmi le carte, dovevo capire che cosa succediva. Piano piano, piano piano, piano piano, ho capito. Per cui il maggiore contributo lo puoi avere avendo conoscenza e coscienza dei problemi e conoscenza e coscienza di ciò che tu devi raddrizzare perché nel passato non hai avuto né la forza, né l'autorevolezza, né l'autorità per poterlo fare. Questo è il mio proponimento, quello di continuare ad accrescere la conoscenza e la coscienza di tutto quello che ho acquisito perché uno nuovo deve stare a ripetere tutta questa benedetta. Questa trafida. Passore, siamo in conclusione. Che campagna elettorale intende fare? Sempre una campagna elettorale con i tempi che corriamo, senza questa enfasi della grande pubblicità. Stare raccontate a sentire il cittadino, essere scandalosamente franco con i cittadini, ascoltarli e cercare di risolvere. Tanto è che i miei slogan oramai sono noti a tutti quanti. Non mi interesso di un posto, ma mi interesso di 800 posti. Sono un politico privilegiato all'interno di una polida di 19 milioni di metri quadrati. Sono per le donne e quindi mi sono occupato soprattutto dei diritti delle donne, del carcere, dei minori. Questo è quello che ho fatto io. Quindi la mia campagna elettorale è su questo solcro. Perché dovrebbero votare per lei? Perché la parola che manca in tutta la politica di questi anni è la passione. La passione la sento nominata. Come in tutti i lavori, in tutti i mestieri, in tutte le cose. Se non hai passione è meglio che non fai niente. Passione, studio, rigore e il senso di appartenenza soprattutto a questo territorio e a questa bellissima Puglia. Bene, possiamo fermarci qui. Grazie Franco Pastore per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consuita cortisi. Grazie, attenzione a risentirci.